Tutto pronto per il prossimo turno di campionato in Serie D. Le Cilentane sono ancora in corso per gli obiettivi stagionali, tuttavia a Vallo delle Lucani e Santa Maria il clima non è sereno. Mister Rogazzo siede da quattro settimane sulla panchina del Santa Maria ma sta ancora cercando la prima vittoria. Oggi alle 14.30 al Carrano arriva la Paganese. Gli azzurro stellati vivono un ottimo periodo anche grazie ai nuovi innesti. La settimana scorsa hanno vinto nettamente il derby contro Langley mentre due settimane fa hanno ben figurato contro l'Altamura capolista. I giallorossi possono contare anche su nuovi innesti acquisiti in settimana. Sul fronte Gelbison invece la formazione rosso-blu ha cambiato allenatore e agito sul mercato con il ritorno di Gagliardi. Tutto ciò per ora non ha sortito però gli effetti sperati, sono ben tre le sconfitte messe di fila per il rosso-blu, le ultime due sotto la guida di Erra. Per restare in corsa per i play-off, oggi al vicino di Gravina alle 14.30, il rosso-blu dovranno portare a casa il bottino pieno. I pugliesi sono in piena zona play-out ma a tenere in apprezzione lo staff tecnico e i tifosi della Gelbison più che la caratura dell'avversario e la sterilità del reparto offensivo. Si segna con molta difficoltà. Proprio per ovviare a queste problematiche Erra ha intenzione di operare una variazione nel modulo che dovrebbe essere il 4-3-3. Gagliardi verrà lanciato con ogni probabilità nell'undici titolare in sostituzione di Bubas. L'argentino finora sta rendendo sotto i suoi standard.